La commedia all'italiana è il rosto dei carabinieri. La storia del rosto dei carabinieri, allora capeggiato dal generale Subranni, vice comandante il colonnello Mori, vice di Mori il capitano De Donno, sembra la storia dell'ispettore Clouseau, sempre che vogliamo credere alla loro versione. Il rosto dei carabinieri è il reparto operativo speciale. È un corpo speciale dello Stato, speciale perché? Perché è specializzato nella lotta alle mafie. Quindi sono il massimo livello di professionalità che abbiamo addestrato per catturare e scoprire i mafiosi. Questi, dopo la strage di Capaci, decidono di andare a parlare con un mafioso agli arresti domiciliari, non per avere informazioni e scoprire chi ha messo le bombe, ma per sapere dai mafiosi che cosa vogliono in cambio della fine delle stragi. La prima sarebbe un'attività investigativa, la seconda è una trattativa. Naturalmente soltanto uno scemo può pensare che tre carabinieri decidano bel belli di andare a trattare con i mafiosi che stanno mettendo a ferro a fuoco l'Italia per offrire qualcosa in cambio e sapere che cosa vogliono in cambio senza avere le spalle coperte dalla politica. Ci li ha mandati qualcuno a trattare, solo che loro non lo vogliono dire e grazie al fatto che non l'hanno detto hanno fatto carriera. Quando lavoravano e anche dopo che sono andati in pensione. Uno dice è andato in pensione, finalmente ci siamo tolti dai coglioni il generale Mori. No, quelli fanno carriera pure dopo che vanno in pensione, dopo che ne hanno combinate di tutti i colori senza spiegare perché. Qual è la prima contropartita della trattativa? È la cattura di Riina consegnato da Provenzano ai carabinieri a patto che il covo non venga perquisito, a patto che tutti i segreti di Riina rimangano nelle mani dei suoi successori mafiosi. E infatti dopo la splendida operazione di andare a prendere Riina dove Provenzano e il suo uomo, che era l'ex autista di Riina, Baldassare Di Maggio, ha detto di andare a prenderlo, che cosa fanno i carabinieri? Non solo non perquisiscono il covo ma bloccano i loro colleghi che stanno andando a perquisirlo, raccontando alla procura di Caselli che loro lo sorveglieranno per giorni e giorni perché vedi mai che qualche mafioso vada a prelevare la moglie e i figli. di Riina che latitavano con lui ma che non andavano arrestati. Effettivamente è una giusta intuizione, infatti la notte stessa i mafiosi vanno a prelevare la moglie e i figli di Riina e li riportano a Corleone e nei giorni successivi tornano con impresa ed ile per svuotare completamente il covo, smurare la cassaforte di Riina, ripulire tutto e metterci anche qualche tramezzo in cartongesso che non fa più capire com'era la suddivisione delle stanze. Il problema è che i carabinieri lì davanti non ci sono perché non stanno sorvegliando niente, non hanno perquisito e non hanno sorvegliato e così chi lo ha perquisito il covo di Riina? Gli uomini di Provenzano e di Bagarella. Uno che fa una cazzata del genere viene immediatamente degradato sul campo e poi è mandato a dirigere il traffico sul Gen Argentu perché ce n'è poco di traffico sul Gen Argentu. Invece questo da colonnello diventa generale, da vicecomandante diventa comandante. All'inizio del 1993, poco dopo la mancata perquisizione del covo di Riina, un carabiniere in gamba di Catania o di Messina scopre in una località di villeggiatura sul mare vicino Barcellona Pozzo di Gotto Terme di Vigliatore, che lì si sta nascondendo latitante Nitto Santa Paola, che è il Riina di Catania, lo stragista di Catania, plurilatitante e plurilicercato. Avverte il generale Mori, che hanno individuato il villino dove trascorre la latitanza Nitto Santa Paola e gli dà l'indirizzo. Mori dice ci penso io, manda la sua squadra migliore, quella capeggiata dal capitano ultimo, lo stesso che ha arrestato Riina e non ha perquisito il covo. La squadra arriva e sbaglia villino, irrompono a mano armata nel villino di un poveretto che si chiama Fortunato Inbesi, da allora si chiama Sfigato Inbesi, ovviamente, visto quello che gli è successo, mettono a ferre a fuoco il villino, fanno un casino della Madonna, parcheggiano tre volanti davanti alla villa e non contenti quando questo Inbesi scappa perché pensa che siano dei rapinatori, dei delinquenti, questi non sono in divisa, sono in borghese, non hanno segni di riconoscimento, scappa con la macchina, viene inseguito da questi qua, che fanno pure una sparatoria. Così naturalmente Santa Paola nel villino che c'è a cento metri dice che cos'è questo casino? Esce fuori e dice ah i carabinieri e cambia nascondiglio. Ciao Santa Paola! Voi direte un altro infortunio dopo la mancata perquisizione del covo di Rina, la mancata cattura di Santa Paola perché hanno sbagliato Villino? I più grandi investigatori specializzati nella lotta alla mafia? Ma l'ispettore Clouseau colpisce ancora. Nell'ottobre del 95 un altro carabiniere in gamba, il colonnello Riccio, riesce a convincere un mafioso, suo confidente, uno dei boss di Caltanissetta ed Enna, e si chiama Luigi Ilardo, a dargli gli strumenti per catturare Provenzano. Ilardo prende un appuntamento con Provenzano per un summit di mafia in un casolare, in una masseria a Mezzo Iuso, vicino Corleone, perché Provenzano è latitante in quelle zone. C'è la data, c'è l'orario e c'è la masseria. Naturalmente, purtroppo, il colonnello Riccio avverte il generale Mori, che ancora una volta pronuncia la fatidica frase Ci penso io. Arriva un'altra squadra altissimamente specializzata sul posto e che cosa fa? Provenzano arriva, Ilardo arriva, si tiene il summit, ma astuti come volpi, i nostri espertissimi investigatori decidono di osservare il summit a distanza. Tutto il tempo di farlo, di uscire, se ne va Provenzano, se ne va Ilardo che continua a guardarsi intorno dicendo ma dove cazzo sono sti carabinieri? Gli ho detto l'indirizzo, gli ho detto l'orario, che altro vogliono? Che glielo arresti io, Provenzano? Provenzano si dilegua. Nei giorni successivi, nei mesi successivi, continuerà a fare altri incontri nello stesso casolare e a latitare nella stessa zona, ma non verrà mai preso. Loro sempre li vigili a distanza come il palo della banda dell'ortica della canzone di Iannacci. Terzo colpo dell'ispettore Clouseau. A quel punto uno dice, beh adesso li cacci, adesso li degradi, adesso ci metti qualcun altro. No! Il generale Mori diventa il capo dei servizi segreti civili, diventa il direttore del SISDE, signori. Il talento, come diceva Totò, va premiato. Più cazzate fanno e più fanno carriera. E quando finalmente va in pensione, il sindaco alemano lo nomina consulente per la sicurezza a Roma? Se c'è mafia capitale se ne accorgerà, no? Assolutamente no. Tant'è che proprio alemano era pappa e ciccia con questi. e poi Formigoni, un'altra volpe, lo nomina a sorvegliare la regolarità degli appalti di Expo 2015. Infatti si è scoperto sia che c'erano le tangenti, ma non le tangenti di gente nuova. Le tangenti le gestivano ancora primo greganti, Luigi Grillo e Gian Stefano Frigerio, tre che li avevano già arrestati vent'anni fa in Tangentopoli, uno fisionomista, li riconosceva anche se ormai vanno in giro col girello e con la carrozzella. E invece questa volpe mica se ne è accorto, come non si è accorto delle infiltrazioni dell'Andrangheta negli appalti dell'Expo. Però è questa la carriera che fanno coloro che fanno le trattative con la mafia e poi stanno zitti, anche a costo di passare per coglioni. Tanto anche se passi per coglione carriera la fai lo stesso. Quindi perché dovresti dire la verità? Hai un'assicurazione sulla vita e noi siamo pieni di potenti che continuano a comandare dopo vent'anni o perché hanno fatto, o perché hanno autorizzato, o perché hanno coperto la trattativa e non hanno mai detto niente. Sono tutte carriere imperscrutabili e inspiegabili se non si va a leggere in questa sentenza chi ha fatto che cosa in questa trattativa. Voi immaginate se esistesse uno sceneggiatore libero, un regista libero, un produttore libero, un network televisivo libero in Italia, che razza di fiction potrebbe mettere in piedi su questa roba qua? Mezza tragica e mezza comica. Dove ci sono tutti i personaggi che conosciamo perfettamente perché uno sta alla Corte Costituzionale, l'altro sta ai servizi segreti, l'altro sta al Quirinale o stava al Quirinale fino all'altro giorno, l'altro stava al CSM e non c'è bisogno di fantasia, non c'è bisogno di inventare, non c'è nessun rischio di querela perché è scritto tutto nelle sentenze e guardate che questa sentenza potrebbe essere tranquillamente ribaltata da un'altra sentenza che dice tutto quello che è successo non è reato. Ma non potrà mai esistere una sentenza che dica tutto questo non è successo perché che tutto questo sia successo è già storicamente dimostrato dai documenti, dai racconti delle stesse persone. Voi lo sapete chi è il primo che parla di trattativa fra lo Stato e la mafia? Il generale Mori che l'ha fatta! C'è un video su YouTube di il generale Mori che testimonia davanti alla corte d'assise di Firenze che faceva il processo ai boss per le stragi del 93 a Roma, Firenze e Milano nel quale ripete otto volte la parola trattativa ma non dice presunta, non dice cosiddetta, non dice eventuale, dice abbiamo fatto la trattativa perché è così perentorio? Perché l'ha fatta lui! Era il 97, sono passati 21 anni e per 21 anni non si è trovato un cazzo di giornalista che avesse nemmeno il coraggio di chiamarla la trattativa dovevano sempre metterci la presunta, la cosiddetta forse, magari, eventualmente, pieni di vaselina perché non hanno il coraggio di chiamarla come la chiama colui che l'ha fatta? perché se la chiami la trattativa poi devi chiedere conto a chi l'ha fatta a chi ce l'ha mandato a chi l'ha coperta e a chi ci ha fatto sopra una carriera ricattando gli altri con il suo silenzio e questo, la nostra stampa di regime non è pronta a farlo e non lo sarà mai quindi, se vi capita leggete questo libro che